guardate è gastone la cucinella ciao gastone paparino gastone può venire al nostro picnic non ne sono sicuro che cosa ha detto tata susina forse riesce a capire la lingua delle cucinelle parteciperebbe con piacere al regale picnic delle fate insieme alla principessa holly e a ben l'elfo vostra maestà molto bene è solo un peccato che sia così puzzolente tata susina puoi tradurre quello che dice sì che posso ma è meglio di no siamo arrivati è il posto ideale per un picnic cosa è quello è del cibo per il picnic vuoi dire che hai davvero portato con te del cibo per il picnic certo probabilmente questa è una strana abitudine degli elfi vostra maestà è molto interessante ho portato tantissime cose per tutti quanti grazie ben ma noi fate non mangiamo il cibo degli elfi abbiamo il nostro speciale cibo delle fate qui dentro ecco guarda oh mi sembra che il vostro cestino sia vuoto forse avete dimenticato il cibo ti sbagli ben il cestino non è vuoto ti ricordi che è un cestino da picnic magico e fa comparire tutto quello che vogliamo cominciamo con le bibite io avrei voglia di un po di spumeggiante succo fatato cestino magico saggio e intelligente fa comparire del succo fatato immantinente wow sì giovane elfo è piuttosto sorprendente ben hai voglia di scegliere tu le bibite per voi bambini ricorda puoi chiedere tutto quello che ti piace qualsiasi cosa posso davvero chiedere qualsiasi vieni siamo qui bravissimo gastone ottimo lavoro gastone ti va di agitare le tue zampette allora girati sulla schiena agita le zampette a gastone piace stare sulla schiena è divertente holly è l'ora della nanna tata susina mi chiama devo tornare a casa adesso ma ci stavamo divertendo tanto non preoccuparti possiamo vederci di nuovo domani sì ben è l'ora della nanna oh la mamma mi chiama ciao ben ciao ciao gastone ciao holly ciao gastone ci rivediamo domani domani Ben! Gastone! Olly! Gastone! Ciao, Olly! Ciao, Ben! Dov'è Gastone? Credo che non si sia ancora svegliato! Oh, vieni, andiamo a chiamare! Oh, guarda! C'è Gastone e la cucinella! Forse lui ci può aiutare! Ciao, Gastone! Ci puoi aiutare a trovare la bacchetta di Olly? L'avevo lasciata qui, però adesso non c'è più! Gastone ha un fiuto infallibile! Troverà la tua bacchetta in un lampo! Sei bravissimo, Gastone! Oh! Come mai Gastone si è fermato qui? E come mai sta scrutando il cielo? Allora deve essere lassù che è finita la tua bacchetta! E come? Ehm... Sai per caso se può volare? Beh, la mia bacchetta è magica, ma io non credo che possa volare! Deve essere lassù da qualche parte! Se solo fosse capace di parlare per dirci dove si trova! Allora è semplice! Non è capace di parlare, ma sai mettere un suono! È come una specie di tintinnio! Perfetto! Adesso prova a chiamarla! Va bene! Bacchetta! Uhuh! Bacchetta! È la mia bacchetta! Il suono arriva da lassù! È una gazza ladra! E ha preso la mia bacchetta! A loro piacciono gli oggetti che brillano! È andata troppo in alto! E non mi è permesso volare fino a quell'altezza! Non c'è problema! Mi posso arrampicare! Fa attenzione, Ben! Sta tranquilla, Ollie! Gli elfi sono bravi ad arrampicarsi! E io sono un elfo! Ciao, uccellino! Possiamo riavere la nostra bacchetta magica, per favore? Bene! È stato facile! Questo rumore da dove viene? Spero proprio che non sia il motore! Guardate! È Gastone la coccinella! Ciao, Gastone! Stiamo andando alla fattoria degli elfi! Vuoi venire insieme a noi? Ciao, vecchio elfo saggio! Buongiorno, principessa Ollie! Benvenuto alla fattoria degli elfi! Adesso devi indossare questo casco! Per quale motivo? Nel caso ti cadesse qualcosa sulla testa! Oh! Dirigiamoci al campo di carote! Guardate! Questo è il nostro campo di carote! Fate attenzione! Sta per uscire una carota! Tirate su! Tirate su! Tirate su! Wow! Oh, ciao, principessa Ollie! Buongiorno, signor elfo! Da questa parte... Ciao, ciao! Arrivederci! Qui invece coltiviamo la lattuga! Sgomberate il campo! Sgomberate il campo! Sgomberate il campo! Andiamo, presto! Ma perché adesso hai aperto l'ombrello? Perché tra poco faremo piovere! E userete la magia? A noi non serve la magia! Abbiamo a disposizione un innaffiatoio gigante! Spingete su! Spingete su! Spingete su! Spingete su! È davvero fantastico! Se trovi questo fantastico, allora aspetta di vedere... Uno dei vostri amici è stato trasformato in insetto? Chi è? No, mammina! Questo è Gastone, la coccinella! Nessuna trasformazione! È proprio così! Ah, certo! Ovviamente! Ciao, Gastone! Ascoltate! Le gemelle sono ancora piccole! Quindi, per favore, state attenti! Va bene, regina Carlo! E non fatele mai uscire dal cortile del castello! Sì, mammina! Divertitevi! Wow! Le tue sorelline sono davvero scatenate! Lo so! Sono una vera minaccia! Quindi, tieni la tua bacchetta al sicuro, Fiore! Andiamo! Sono così dolce e minuscole! Sono sicura che Daisy non voleva trasformarmi in un gatto! Miau, miau! Allora, a che gioco volete giocare? Che cosa ne dite di nascondino? Giocare! Giocare, giocare! L'unico problema è che le gemelle non sanno ancora contare! Potrei aiutarle io! Sono molto brava a contare, lo sai? Ok! E adesso chiudete gli occhietti! Resto! Nascondiamoci! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Sì, pronti o no, io sto arrivando! Dove sono le gemelle? Daisy! Poppy! Non è sicuro per voi volare così in alto! Gatto, gattino! Miau! Wow, Fiore si è di nuovo trasformata in un gatto! Gattino scompari, Fiore riappari! E le gemelle dove sono? È troppo piccola! Vuoi che la renda un po' più grande? No, va bene! Forza, giochiamo adesso! Prendila, Ben! Prendila, Gastone! Di nuovo a te! Oh, mi dispiace! Olly, sei tu che hai trasformato la palla in questo? No, quella non è la nostra palla! Guarda! E allora che cos'è, secondo te? A me sembra proprio un uovo! Chissà da dove è saltato fuori! Non ci sono alberi in giro! Forse è volato qui! Ma le uova non volano, Olly! Le uova magiche possono volare! E chi lo sa? Forse è un uovo di drago! Gastone! Tu lo sai a che specie appartiene quest'uovo? Ho paura che abbia detto di no! Ho trovato! Possiamo chiederlo a Tata Susina! Ottima idea! Tata Susina, scendi! Oh, perbaccolina, che succede? Abbiamo trovato un uovo magico! O forse è un uovo di drago! Vieni con noi! Te lo facciamo vedere! Molto interessante! Un uovo! È questo l'uovo magico, Tata! Ma non è affatto magico! Allora è un uovo di drago? No, è soltanto un uovo di uccello! Ciao! A che specie di uccello appartiene? Gastone, trova Tata Susina! Gastone la fiuterà senza problemi! Vedrete! Urrà per Gastone! Ecco Tata Susina! Fase 1 completata! Oh, ciao! Come avete fatto a trovarmi così in fretta? Gastone ha seguito il tuo odore! Semplice! Il mio odore? Per tua informazione, io non ho odore, mio caro! Tata! Ho la tua bacchetta! Guarda qui! Olly! Non puoi toccare la mia bacchetta! Non ricordi? Potrebbe essere molto pericoloso! Ma noi volevamo solo aiutarti, davvero! E tu hai detto che una fata non deve mai separarci dalla sua bacchetta! Così abbiamo pensato di venire qui per salvarti e restituirtela! È molto bello da parte vostra, davvero, ma... Il salvataggio! Si passa alla fase 2! Resisti Tata Susina! Adesso lancerò questo lasso e ti tirerò giù di lì! Mi sembra un po' pericoloso! Credo proprio che aspetterò che cali il vento e poi scenderò da sola, d'accordo? Sei sicura che non vuoi essere salvata, Tata Susina? Più che sicura! Non è quello che avevo progettato, ma visto che siamo qui tutti insieme, credo che possiamo riprendere la nostra lezione! Tata Susina, sei sicura che quella foglia possa reggere il tuo peso? Il mio peso? Caro ragazzo, ti comunico che sono leggera come una piuma! Scusatemi, dov'erò rimasta? L'ultima cosa che hai detto è stata... Vedete, persino io sono in difficoltà quando il vento... Uuuu! È questo il verso che hai fatto quando il vento ti ha portato via! Uuuu! Eh, certo! Grazie, Fragolina! Persino io sono in difficoltà quando... Uuuu! 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 E' ora di pranzo! Oh! Temo che gli insetti non siano ammessi dentro il castello! È tutto a posto, Tata Susina! Papà ha invitato Gastone a stare per un po' qui da noi! Oh! Allora va bene! Fa come a casa tua, Gastone! 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 Bella cucinella! Mi auguro che impari a pulirsi i piedi! Gastone non sta bene, Tata! E non ha un posto dove andare! Comunque non sono certa che invitarlo sia stata una buona idea! Non preoccuparti, cara! Gastone non ci darà problemi! E dove si siederà per mangiare? Può usare questa piccola sedia! Tata! Parli coccinellese! Che cosa dice? Gastone dice che quella sedia è troppo piccola! No! È la sedia della regina quella! Non agitarti, Tata! Alla regina non importa, vero, cara? Gastone dice che quella sedia è troppo dura! Veramente, Gastone! Quella è la mia sedia! Dice che quella è assolutamente perfetta! Oh, cielo! Sembra di avere riccioli d'oro come ospite! Non preoccuparti, papà! Puoi sederti su questa piccola sedia! Miam, miam! Grazie, Tata! Già! Questo cibo è davvero delizioso! Ora ci vuole del cibo per le coccinelle! Il nostro ospite sarà affamato! Per l'insetto pretenzioso, cibo verde e odoroso! È puzzolente! A Gastone, però! Sembra piacere molto! A me sembra proprio che stia dicendo Betty! Buongiorno, Betty! Stiamo giocando con i nostri amici! Gastone la coccinella e Bobby l'ape! Ti va di giocare insieme a noi? Credo che voglia dire che le va! Perché non facciamo una corsa? Il primo che attraverserà il prato sarà il vincitore! E possiamo volare? Non si può volare e non si può neanche usare la magia! Va bene! Pronti! Partenza! Via! Wow! Guarda come corre Betty! Wow! Sei velocissima, Betty! Che ne dite se Gastone ci fa vedere quello che sa fare? Ottima idea, Ben! Possiamo starcene qui a guardarlo! Guarda! Il brucco Betty sembra un po' triste! Ho paura che in questo momento si sente esclusa! So come risollevarle il morale! Oh, ottimo! Allora provaci, Ben! Non essere triste, Betty! Volare non è così importante! Gli elfi non sanno volare! E io sono un elfo! A me non sembra che abbia funzionato! Forse posso riuscire a farla volare con la ma... Permesso! Elfi al lavoro! Ma non si deve lavorare oggi, signor elfo! È un giorno di vacanza! Questo è vero, vecchio saggio! È vero, purtroppo! Ma io devo consegnare con urgenza del cibo al piccolo castello! Io ti suggerisco di tornare qui domattina! D'accordo! Ciao! Ciao! A proposito di cibo, a me è venuta un po' di fame! Sì, anche a me! Anche a me! Anche a me! Regina Olly! Abbiamo un po' di fame! Molto bene! Allora io vi ordino di mangiare qualcosa! Fare la regina è davvero facilissimo! Ma nessuno ha preparato qualcosa da mangiare oggi! Sono tutti in vacanza! È un ordine reale! Oh! Regina Olly! Se permetteste che noi elfi tornassimo al lavoro, potremmo preparare il pranzo per tutti quanti! Neanche per sogno! Tutti voi avete diritto a un meritato giorno di vacanza! È un mio ordine! Ma noi abbiamo fame! Abbiamo bisogno di cibo! Ehm... Penserò io al cibo! Urrà! Allora, cosa si mangia di solito in vacanza? Il gelato! Esatto! Ottima idea! Farò in modo che tutti voi possiate mangiare del gelato! Urrà! Vi ringraziamo! Regina Olly! Dove stiamo andando? Ora andiamo in cucina! Possiamo usare il calderone di Tata Susina per preparare il gelato! Oh! Hai intenzione di preparare il gelato con la magia? Ovvio! In che altro modo, se no? Ma Olly! I tuoi incantesimi non sempre riescono alla perfezione! Far apparire del gelato è una cosa facilissima! Guarda! Abracadù! Abracadorno! Quali ad esempio? Ah! Le ragnatele, ad esempio! Buonasera! Come sta, Madame Aragno? Scusi se l'abbiamo rovinato la ragnatela, ma questo giovane elfo è ancora inesperto! Non sa volare bene di notte! Uuuu! Arrivederci! Grazie, Tata Susino! Tata, senti! E a quale altre cose dobbiamo fare attenzione? Oh! Ti sei risposta! Questa finestra da dove è spuntata? Gran bel lavoro, Olly! Hai trovato la casa della piccola bambina! E quella è la piccola bambina! A me non sembra poi così piccola! Wow! È davvero una bambina enorme! Silenzio! Dovete fare piano perché ha anche delle orecchie enormi e potrebbe sentirci, quindi state buoni e tranquilli! Seguitemi! È davvero molto carina! Non avvicinarti troppo, principessa Olly! Il suo respiro sta per risucchiarmi! Sbatti forte le ali! Come vi ho già detto, dobbiamo sempre fare molta attenzione! Questa è la parte più difficile! Dovrò tirare fuori il dente da sotto il suo cuscino, però senza svegliare la bambina, capito? Capito! Soffice cuscino! Vola, vola, vola! Wow! Eccolo qui! È bloccato! Uno, due, tre, tira! Grazie, Ben! Questo è decisamente un gran bel dentone! Devi ancora mettere la monetina, Tata! Eccola qui! Oh no! Che succede? La bambina ci ha scritto una lettera che seccatura! Io adoro leggere le letterine! Ma i bambini vogliono sempre una risposta! Adesso dovremo tornare di nuovo! La posso leggere... È... È... Davvero molto grande! Gastone, puoi tradurre quello che dico, per favore? Salute a voi, vostra formichezza! Io mi chiamo Tata Susina! E io mi chiamo Olly! Sono una graziosa principessa delle fate! Io sono il signor elfo! E io sono la signora elfo! E io sono Ben l'elfo! Noi siamo elfi! E voi avete il mio corno! E lì c'è la mia bocchetta! Ecco il pianoforte del re! E il nostro televisore! E il mio cestino da picnic magico! Gastone, chiedi se possiamo riavere la nostra roba! Quello vuol dire... No! E perché non vuole renderci le nostre cose, Tata? Glielo chiedo subito! A che cosa vi serve questa roba che avete preso? Dice che le formiche la mangiano, anche se il suo sapore è orribile! Non riesco a capire! Perché la mangiano se la trovano orribile? Questi sono oggetti non cibo! Dice che di solito prendevano il cibo che la gente grande avanzava durante i picnic! Ma la gente grande non fa più picnic da tanto tempo! Così le formiche sono costrette a mangiare tutta l'immondizia che trovano! Quella non è immondizia! È un raffinato strumento musicale che dovevo consegnare al re! Non sapete che non si mangiano gli strumenti musicali? Eh no, Ben! Queste formiche sono chiaramente ottuse! Gastone! Non devi tradurre questo! Quando ho detto che siete ottuse, in realtà volevo dire che siete intelligenti! La regina non sembra molto... La X è segnata sulla tana di Gastone! Andiamo! Ciao, Gastone! Siamo qui perché potrebbe esserci un tesoro dei pirati dentro la tua tana! Pensate che un tempo vivevo qui, molte luni or sono! Probabilmente prima che tu nascessi, Gastone! Mi piace come hai sistemato questo posto! Signor Barbarossa, che cosa dice l'indovinello? Ah, sì, l'indovinello! Sono ricoperto di pallini e sotto il materasso troverete l'indizio che condurrà il vostro passo! Ricoperto di pallini, che cosa sarà? Gastone ha molti pallini sulla sua schiena! E quindi nell'indovinello si parla del suo materasso! C'è un'altra mappa! Oh! La X indica il piccolo castello! Impossibile! Ho spolverato ogni più piccolo angolo del castello, ma non c'era nessun indizio! Forse è ben nascosto, mio dolce tesoro! Tutti al piccolo castello! Salve, benvenuti! Allora invece! Oh, santo cielo! Papà, stiamo cercando un vero tesoro dei pirati! Vi presento mio zio, Barbarossa, l'elfo pirata! Vostre maestà, lei è un pirata per caso? Non un pirata cattivo, vostra maestà, ma uno di quelli buoni! Io sono Barbarossa, l'elfo pirata! Beh, un elfo pirata! Allora, dov'è questo tesoro? Sopra al castello io punto al cielo sconfinato, ed è proprio sotto di me che l'indizio che cerchi è celato! Questo non ha alcun senso! Rex è un cane pastore, guardate! Ora sta radunando tutte le pecore e poi le porta al sicuro nel loro recinto! Wow! Vorrebbe provarci anche Gastone! Tu sei troppo piccolo per radunare le pecore, Gastone! Wow! Che cos'è questo rumore? La luce è andata via! Lei è Bessie! Scusa, chi sarebbe Bessie? Bessie è la mia mucca! Una mucca! Anche a lei piaci molto! E allora, allora, bambini, chissà dirmi che cosa ci fornisce la mucca? Una bella alicata! Sì? E che cos'altro? Il latte! Risposta esatta! Ma non ne ha portato neanche un po' con sé! Invece sì! Guardate bene! Non preoccuparti, Bessie! Lo farò molto delicatamente! Adesso lo avete visto anche voi! Ecco da dove viene il latte, bambini! Dalla mucca! Un'altra cosa interessante da sapere sulle mucche è che si mettono a sedere quando sta per piovere! Oh, 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 tata Susina! Questa è soltanto una diceria delle fate! Ma è vero! Le mucche si siedono quando sta per piovere! Oh, certo, certo! Guardate qui che splendido esemplare di bovino femmina adulto! Eccezionale! Io ho appena sentito una goccia di pioggia! Queste sono le mammelle della mucca! Sì, sto di sicuro cominciando a piovere! Eh, vecchio saggio elfo! Forse sarebbe meglio se ti togliessi da sotto la mucca! Se soltanto potessi osservarle un po' più da vicino! Oh, quello non è un bastoncino! Ciao a tutti! Ciao, fragolina! Oh, cos'è quello? A me sembra che sia un braccio di metallo! Gastone, ma dove l'hai trovato questo? Ma che cos'è? Questo è un robot giocattolo! Però a me sembra che sia rotto! Possiamo aggiustarlo con la magia? Eh, no, grazie, fragolina! Lo aggiusteremo alla maniera degli elfi! Gli elfi sono molto bravi ad aggiustare qualsiasi cosa! E noi siamo elfi! Ecco, finito! Oh! Allora, può parlare? Mi può preparare una tazza di tè? No, è soltanto un robot giocattolo! Però sa fare così! Elf! 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 Allora è molto noioso! Non è affatto noioso! Sa fare quello che sanno fare tutti i robot! Proviamo ad accenderlo! Sembra che non stia facendo proprio niente! Oh! Forse gli mancano le batterie! No, non servono! Va a molla! Però io non vedo la chiave! Ne faccio subito apparire una! Oh! Ollie, secondo me non è prudente usare una chiave magica! La magia può essere molto pericolosa! Io sono sicura che andrà tutto bene! Non preoccupatevi! Non c'è problema! Mmm... Come volete! Fai il bravo, Gastone! Adesso vediamo un po' che... Potremmo sempre fare una festa degli elfi! Una cosa? Alle feste degli elfi non si può usare la magia! E che ne sarà del mio spettacolo? Ai bambini di solito piace molto! Alle nostre feste viene il grande mago! Lui è un elfo prestigiatore che non fa uso della vera magia! I suoi sono solo dei trucchi! È un'ottima idea! Beh, questa sarà una festa tranquilla! È molto noiosa! Esattamente! Tata Susina chiama subito questo grande mago e digli che abbiamo dei bambini da annoiare! Volevo dire, da divertire! Come volete, vostra maesta! Benvenuti alla nostra festa! A Tarquinio piacciono le feste! Ciao, ciao, Tarquinio! Fai il bravo! Sì, mammina! Ciao, Ortica! Ah, ma mi appunto! Tata Susina! Il mio dolcissimo pasticcino! Cerca di divertirti alla festa, Ortica! Lo zio verrà a riprenderti più tardi! Calmatevi un po', bambini! Per favore! È arrivato il grande mago! Ma è solo il vecchio sancio elfo! Io non sono soltanto il vecchio saggio elfo! Sono anche un esperto nell'intrattenere i bambini! Oh, avanti allora! Questi bambini sono difficili da gestire, soprattutto quando fanno magie! Non si potrà assolutamente usare la magia a questa festa! Ora chiuderò tutte le banchette magiche in biblioteca! Almeno saremo sicuri che non ci saranno problemi! È un'ottima idea! E adesso possiamo dare inizio alla festa! Ura! Giochiamo alle belle statuine! Quando la musica si fermerà, voi dovete rimanere immobili come delle statue! Ah, lampone! Ti ho vista, ti sei mossa! Anche tu, Ortica! Si sono mossi perché non sono riuscita a trasformarsi subito in pietre! Cosa? Ma... Dov'è finita la neve? Tata Susina! Sta nevicando in casa! Wow! Neve! Neve! Avanti ragazzi, giochiamo! Oh, Tata Susina! Sta nevicando nel nostro salotto! È opera tua questa? Sì, ma certo! Qui dentro ci si siede in poltrona e si legge! La neve deve stare là fuori! Oh, dentro, fuori? Che cosa cambia? Tata Susina, sei licenziata! Non siate sciocco! Finché non controllerai i tuoi incantesimi, io ti sequestro la bacchetta! Ma la neve non potrà... Non un'altra parola! Oh! Forza! Fuori tutti! Adesso che papà ha preso la bacchetta di Tata Susina, lei non potrà più far nevicare, purtroppo! Avremo un Natale senza neve! Che tristezza! Coraggio, c'è sempre la possibilità che si metta a nevicare! Sento un rumore nel cielo! È neve, per caso? No, guardate! È l'aereo degli Elfi! Papà è tornato dal polo nord! Ah, e anche l'ultima consegna è fatta! Hai visto la neve al polo? Certo, moltissima! Ha sufficienza da bastarmi per tutta la vita! Ha finito il suo lavoro, signor Elfo! Significa che è in vacanza! In vacanza? Per l'amor del cielo, no! È la vigilia di Natale! Devo preparare il banchetto degli Elfi e delle Fate di stasera! Oh, sì! Il banchetto di mezzanotte degli Elfi e delle Fate! La vigilia di Natale! Con musica! E canti! Con lanterne! Già, e purtroppo le lanterne non si appendono! Oh, guardate! Gastone non si muove più! Molto interessante! Gastone è rimasto congelato! Oh, no! Dobbiamo portare la coccinella in un posto caldo! Già, gli insetti non amano l'inverno! Eccoci arrivati! Questa è la casa di Babbo Natale! Sembra proprio un panettone! Oh, meravigliosa! È vero, fratellino! Sai, l'ho costruita io! Beh, quando ho detto meravigliosa, volevo dire che non è niente male! E questo è lo studio di Babbo Natale! Possiamo mettere la coccinella a scongelare davanti al fuoco! Queste sono le pantofole di Babbo Natale! Certo! Sono sue! Wow! I suoi piedi sono più grandi di tutti noi! Gastone si è scongelato finalmente, come prima! Gastone è tornato! Cassa 571 consegnata! Oh, grazie, fratellino! Certo, sarebbe tutto più semplice se il prossimo anno ci faceste avere gli ultimi giocattoli prima della vigilia di Natale! Cosa? Almeno io i giocattoli di fabbrico! Tu ti limiti a incartarli! Ah! Ma incartare i giocattoli è un compito importante! Quando diventerai vecchio e saggio come me? Forse lo potrai comprendere! Non sei affatto più saggio di me! Sono più grande di ben tre minuti! E lo resterò per sempre! A proposito di incartare i regali, non è che qualcuno dovrebbe mettersi a farlo? È la vigilia di Natale! Oh, santo cielo, è vero! Tutti alla macchina in carta regali, presto! Questo era l'ultimo regalo dell'anno da incartare! Finalmente siamo in... Olly, guarda! Sì! Quello deve essere Ben! Ciao, Ben! Ho sentito che sei stato cattivo e così ti hanno trasformato in un ranocchio! Avresti dovuto aspettarmi dov'eri, come ti avevo detto! Già! Povera Olly, era davvero preoccupata! Oh! Forse quella rana non è Ben! Mi sembra che questa gli assomigli un po' di più! Secondo me è di più quella! Oh, non so! Sono tutte uguali! Oh, non troveremo mai Ben! Guarda! Quella ha un cappello in testa! Ben porta il cappello? Sì, almeno credo! Olly, devi saperlo! È il tuo migliore amico, giusto? Certo! Ben porta il cappello! Ciao, Ben! Se sei proprio tu, fai cracrà, d'accordo? Finalmente! Non hai idea di quanto tempo abbiamo passato a cercarti! Ascolta, Ben, non ti preoccupare! Tata Susina sarà qui tra poco e conosce l'incantesimo per farti tornare come eri prima! Non dobbiamo per forza aspettarla! Io so fare un sacco di magie! Ehm, Violetta, credo che sia meglio che ci pensi la tata! No, no, no! Trasformare i ranocchi di nuovo in elfi è davvero un gioco da ragazzi! Guarda qua! Rana saltellante, ritrasformati in elfo seduto a stante! Vedi? Ti avevo detto che ce l'avrei fatta! Bel lavoro, Violetta! Ah, è stato davvero orribile! Ero un ranocchio! Ho persino mangiato le mosche! Ah, temo che il mio incantissimo non sia ancora finito! Oh! Ben, ora è diventato un uccellino! Questa cosa non sarebbe dovuta succedere! Non riusciremo a... È piacevole, eh, papà? È vero! È decisamente piacevole! Perché non l'ho mai fatto prima? Volete qualcosa da mangiare, vostra maestà? Oh, sì! Sto morendo di fame! Anch'io! Una telefonata, maestà! Qualcuno di nome Tata Susina! Vostra maestà! Come va, Tata? Siete in ritardo per il prossimo appuntamento! Sì, d'accordo! Andate subito a terra! Arrivo! Aspettiamo! La Tata ha detto che devo tornare al lavoro! Oh, ma papino, e allora il nostro pranzo? Lo so, ma ho del lavoro molto importante da fare! Ma papà, sei il re! Vuol dire che sei tu che comandi! Sai, Ollie, tutti credono che io dia gli ordini, ma in realtà c'è sempre qualcuno che mi dice cosa fare! Quando è che potremo mangiare? Non c'è tempo per il pranzo, maestà! Dovete fare il giudice in una gara di coltivazione di frutta e verdura delle fate! Come farai a giudicare, papà? Già, come farò, Tata? Basterà scegliere il più grande! La principessa Ollie è il nostro re Cardo! Urrà! 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 Ed ecco i finalisti, vostra maestà! Il primo è un pomodoro! Ah, davvero molto grande! E l'altra è una fragola! Anche quella è molto grande e rossa! Adesso devo fare un altro discorso! Comprimetti per aver coltivato questa roba! La frutta e gli ortaggi sono enormi! Senza ulteriori luci, dichiaro che il vincitore è il pomodoro! Fermati, Ollie! Non è una buona idea mettersi a volare vicino a Madame Aragno! Perché, Tata? Il battito delle nostre ali è simile a quello delle mosche e a lei piace molto mangiare le mosche! Cosa? Mangiare le mosche? Sì! È questo che mangiano i ragni! A te piace il gelato e ai ragni piacciono le mosche! E infatti hanno un alito piuttosto puzzolente! Mi scusi se la disturbo, Madame Aragno! Ci permetterebbe di raccogliere una goccia di ruggiada dalla sua meravigliosa ragnatela! Ci serve per preparare una medicina per il re! Madame Aragno ha appena detto sì! Allora vado a prenderla io, Tata! Gli elfi sono bravi ad arrampicarsi! E io sono un elfo! Urrà! Ben fatto! E adesso ci serve la vava di lumaca! Guardate, è una lumaca! Ollie, perché non provi a chiederglielo tu questa volta? Però dovrai alzare un pochino la voce, perché purtroppo le lumache non ci sentono tanto bene! Come mai non sentono bene? Perché loro non hanno le orecchie! Tata, non possiamo raccogliere un po' di bava dal terreno? Non puoi andare in giro a raccogliere la bava di qualcun altro senza chiedergli il permesso! Non sarebbe corretto! Buongiorno, signora lumaca! Più forte! Buongiorno! Il mio papà, il re, non sta bene! Abbiamo bisogno della sua bava! Soltanto un po' per farlo stare meglio! Le dispiacerebbe se la mettessi in questo barattolo, per piacere! Siamo pronti! Forza, entrate! Aiuto! Aiuto, aiutatemi! Qualcuno mi aiuti! Aiuto, aiuto! Quello cos'era? Sta ridendo? Non so, forse... Splendido! Avanti, andiamo a divertirci! Aiuto! Felice giorno degli scherzi! Non è affatto divertente, vecchio saggio elfo! Oh, davvero? Mi dispiace molto, tata Susina! Se posso permettermi, oggi sei veramente bellissima! Cosa? Scommetto che è un altro scherzo assurdo! No, davvero? Oh, credimi, sei così carina! Posso farti una fotografia, tata? Oh, beh, ma certo, perché no? Oh, ti ringrazio, sei molto gentile! Di cheese! Cheese! Oh, cosa? E' formaggio puzzolente degli elfi! Ha un odore terribile! Già! In effetti è il più puzzolente tra i nostri formaggi! Non mi fa ridere neanche un po', signor vecchio saggio! Oh, com'è possibile? Credo proprio che ti trasformerò in una lumaca! Ma, tata, hai detto mai vendicarsi con un incantesimo! Non mi sto vendicando! Tra l'altro, dov'è la mia bacchetta? Oh, e dai, tata, era solo uno scherzo! Certo, e questo è un altro scherzo! Da elfo all'umato! Che vuoi qui? Chi ha fatto queste montagnole sul mio campo da gol? È stata una talpa, vostra maestra! Beh, mandatela via subito! È tutta la mattina che stiamo cercando il modo di mandarla via, vostra maestà! Non conosce il metodo per liberarsi dalle talpe, vecchio saggio? Ehm, no! E chi lo conosce? Tata Susina! Potrebbe chiedere a lei! La tata sa parlare la lingua di tutti quanti gli animali! Ma certo! Tata! Sì, vostra maestà! Ah, tata Susina! Tu parli con gli animali, vero? Esatto, vostra maestà! Potresti dire a questa talpa di andarsene dal mio campo da golf? Ehm, no, vostra maestà! Cosa? Non so parlare la loro lingua, è uno dei linguaggi animali più difficili insieme a quello del formichiere! Allora usa un incantesimo per mandarla via! Ehm, ci sarebbe un metodo per riuscire a liberarsi della talpa, ma sfortunatamente serve la presenza di un ognomo! E che cos'è? L'ognomo, vostra maestà, è una specie di elfo con un bel pancione! Cosa? Gli gnomi non assomigliano agli elfi! Mangiano un po' troppo, parlano un po' troppo e sono anche allergici al lavoro! Non mi importa come farai, basta che ti liberi di quella talpa subito! D'accordo, allora chiamo un ognomo! Dove sono finito? Buongiorno, signor gnomo! Questa talpa è di troppo, potrebbe mandarla via subito? Lo farò con piacere, per me è un grande onore! Mi piace mangiare e contemplare il mare La crema pasticcera anche di più Degli ottimi centrioli eppure un buon tè Dimmi se non sei d'accordo anche tu Bene, è stato facile, mi sembra! Grazie gnomo, ora mi dica quanto le devo! Oh, ma il mio lavoro non è ancora finito, vostra maestà! Se io me ne andassi adesso, la talpa ritorna... Allora dove sono finiti? Oh, accipicchia, temo che il re li abbia appena trovati! Oh, è questa da dove salta fuori! Andiamo, quanto baccano per una piccola creatura! I girini, eccoli! I girini sono diventati rane, hai visto, Principe Solly? Quali girini? Quali rane? Che cosa sta succedendo? Papino, ti avevo detto che avevo dei compiti da fare, ricordi? Venite, ranocchie, da questa parte! Questa è la mia camera! E questi sono i miei giocattoli! Possiamo giocare al nascondino! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Chi c'è c'è? Io sto arrivando! Vi ho trovate! Giochiamo a qualcos'altro! Ora della nanna, Principessa Olly! Tata, saluta i miei nuovi amici! Sofficino, Balzello, Verdolino e Ben! Ciao! Buonanotte, ranocchietti! Buongiorno, Ben! Vieni fuori a giocare! Zigzag zo, una rana diventerò! Wow! Ed ecco una rana comune! Osservate bene com'è viscida! E sentite anche che cattivo odore ha! È davvero un odore disgustoso! E ascoltate che verso buffo fa! Bene! A questo punto posso dichiarare ufficialmente la lezione di scienze naturali di oggi conclusa! Tata Susina, credo che tu possa tornare te stessa adesso! Ho paura che Tata Susina non sia in grado di ritrasformarsi! Non riesce a prendere la sua bacchetta! Oh, ma che peccato! Allora, come compiti a casa? Ma, e Tata Susina? Non possiamo lasciare che resti così? Non possiamo? Oh, immagino di no! Allora, chi di voi vuol farla tornare come prima? Io! Io! D'accordo! Ollie, provaci tu! Ehm, io non so proprio quale formula magica sia meglio usare! Sono sicuro che Tata Susina voglia comunque che tu faccia almeno un tentativo! Va bene! Proverò con questa! Abbracabrata... Da una rana a una fata! Oh, ha funzionato! Oh, ti ringrazio, Ollie! Ops! Scusa, Tata Susina! Sei stata molto brava, Ollie! Ma hai mosso la bacchetta troppo velocemente! Abbracabrata... Da una rana a una fata! Urrà! Avete visto, bambine? È sufficiente saper controllare la bacchetta! Sì, Tata Susina! È molto interessante, Tata Susina! Ma sarebbe meglio ritornare alla lezione di scienze naturali! Certo, bambini! Quello che il vecchio saggio elfo sta cercando... Guardate! È lui! È il grande e grosso Barry! Che pesce enorme! Avremmo da mangiare per settimane! Ha preso il formaggio! Far partire il motore! Massima potenza! Non andiamo da nessuna parte! Sì, invece! Il grande Barry ci sta tirando indietro! Tenetevi forte! L'abbiamo preso! L'abbiamo preso! Ho paura che sia lui ad avere preso noi, papà! Oli ha ragione! Non avremmo mai dovuto cercare di catturare Barry! È troppo grande! È troppo cattivo! Dobbiamo liberarlo! C'è mai! Si sta arrendendo! Io non direi proprio! Sta mangiando la lenza! È tutta sua! Mi arrendo! Scusa se abbiamo cercato di pescarti! Nessun rancore, eh? Barry! Sta mangiando la mia banti! Calare le scialuppe! Abbandonare la nave! Prima le donne e i bambini e prima di tutti il re! Ovvio! Oh, povera banti! Salve a tutti! Le patate sono pronte! Dov'è il pesce? Che cosa succede? Il grande e cattivo Barry si sta mangiando banti! Oh cielo! Forse gradirebbe delle patatine come contorno! Secondo me è pieno! Ahimè, povera banti! Era una cara amica! Mi dispiace! Ma ora che cosa mangiamo? Gradirei molto dei bastoncini di pesce... ...con le patatine! Gambe! Aspettate e vedrete! La limonata si è trasformata in acqua! Ma perché ha fatto una cosa simile? Quella non è magia! È una magia sicura e prudente! No, è uno schifo magia! Perché? In cosa l'avresti trasformata? Che ne dici di questo? Hai usato la magia fuori dalla nostra sala con l'auto! Oh! Quello è un limone! Volevo mutarla in una rana! Tata Susina! La mia bacchetta ha qualche problema! Senti che rumore! Oh! Sì, hai proprio ragione! Non è il suono giusto? Quanto è passato da quando l'hai fatta revisionare? Dieci anni almeno! Le bacchette andrebbero revisionate ogni anno! Ecco! Prova adesso! Sì! Così va molto meglio! Tata! Hai trasformato il vecchio saggio in una rana! Sì, Ollie! Esatto! Hai intenzione di ritrasformarlo? Devo farlo, purtroppo! Ti do il permesso! Torna a te stesso! Bene, ottimo! La tua bacchetta adesso funziona perfettamente! Non aspettare altri dieci anni per portarla a revisionare! Sì, vecchio saggio elfo! Mi dispiace! Grazie per aver riparato la mia bacchetta, vecchio saggio! È stato un piacere, principessa Ollie! È così bello riaverti con me, bacchetta! Ti prometto che d'ora in avanti ti tratterò sempre con estrema cura! Sì! Ma non sbatterla contro la roccia! Mai più! È l'ognomo! È ritornato per mangiarci la colazione! È una talpa! Oh! Sta mangiando il nostro bucato! Sciò! Sciò! Battene via, per favore! Principessa Ollie, conosci un incantesimo per sbarazzarsi di una talpa! Mi dispiace, signor elfo! Purtroppo no! Oh cielo! Pensa, signor elfo! Come si manda via una talpa! Buongiorno! Urrà! Già? Le talpe non possono sopportare noi gnomi! Non ho idea del perché! Eh... Grazie, signor gnomo, per aver salvato il campo dalla talpa! È stato un piacere! Cosa c'è per colazione? La talpa ha mangiato tutto il cibo! Oh, per bacco! Buongiorno! Tata Susina! Allora, com'è andata? È stato molto strano! Abbiamo scoperto che in realtà il signor gnomo mangia le arance! E poi il signor gnomo ha cantato una canzone che si intitola Dubi Dubi Du! E poi è arrivata una talpa che ha mangiato il nostro bucato e tutto il nostro cibo! E adesso non abbiamo nulla per fare colazione! Sì, pensavo potesse succedere! Ecco perché ho portato il cestino magico da picnic! State tranquilli! Colazione per tutti! Urrà! Meno male! Sto davvero morendo di fame! Oh, quindi nemmeno lei ha mangiato? No, non oggi! Oh, per bacco! È vuoto! No che non è vuoto, signor gnomo! Questo è un cestino da picnic magico! Cestino magico da picnic! Su, avanti! Prepara la colazione per tutti quanti! Urrà! Ho appena avuto un'idea! Cestino magico dacci per favore! Dieci uova all'occhio di Dubu! Tanto pane tostato! Nove barattoli di marmellate! Quaranta salsicce! E novanta frittate! Eppiva! Questa sì che è una spl... E' un terremoto! E' un terremoto! Non si tratta affatto di un terremoto! Ma è qualcosa di peggio, purtroppo! Si tratta di un picchio! Guardatelo lì! Così sta distruggendo l'albero! Ha fatto un buco! Ed è entrato nell'albero! Non è nel mio appartamento! Per fortuna non è nemmeno nel mio appartamento! La nostra porta è bloccata! Spostati! Lasciami provare! Ho motivo di credere che abbiamo trovato il picchio! Invito tutti quanti a rimanere calmi! Che nessuno si spaventi! Presto uscite giù! Sì, salve chi... Presto! Ciao, Ben! Ciao, Ollie! Un uccello è entrato nel nostro albero! Sì! E io l'ho visto per primo! Si tratta di un bel picchio! Esatto, dite bene! Non sapevo che voi foste interessato all'ornitologia, vostra maestà! Oh, certo! Io sono ornitologo! Ecco il distintivo! Bene, siete arrivato proprio al momento giusto! A noi serve tutto l'aiuto possibile! Scortatemi dal picchio! Oh, grazie al cielo siete arrivato, vostra maestà! Il picchio è nel nostro appartamento! E si sta costruendo il nido! Temo che molto presto farà le uova! E quando si schiuderanno ci saranno tanti piccoli picchi in giro per casa! E vi garantisco che i piccoli del picchio sono uccelli estremamente rari, sicuro! Davvero fantastico! Quando nasceranno tornerò qui e osserverò i piccoli del picchio! Ma deve andarsene subito prima che possa depurre le uova! Ma questo è assurdo! Io voglio osservare i suoi piccoli! Questo albero è attrezzato per gli elfi! Non può ospitare anche un picchio! Tutte le creature nel loro nido non vanno di... Vi presento il nuovo cucciolo delle principessine, Pippin! Al galoppo, Pippin! Al galoppo, al galoppo! Ah, ma è un topo! No, vostra maestà! Pippin è un adorabile piccolo criccietto! Com'è dolce! Il mio giornale! A Pippin piaci molto, papà! Oh, è veramente carino, non trovi? Carino non è proprio la parola che avevo in mente! Sono convinto che vivrebbe più felice fuori dal castello! Come volete voi! Indietro! Indietro, Pippin! L'importante è non fargli mai capire che si ha paura! Indietro, Pippin! A buono, Pippin! Indietro! Eccoci arrivati! Benvenuto nel cortile! Sarà la tua nuova casa! Spero che Pippin non si annoi troppo a vivere qui! Gli daremo dei giocattoli! Ai criccietti piace molto anche la paglia! Possiamo dare a Pippin qualcosa da mangiare, Tata? Molto cibo, molto cibo! Certo! E anche da bere! Ha 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 ha! Oh! Vedrete che adesso si sentirà a casa! Oh! Ma perché il mio cortile è coperto di paglia? È per il criceto regale, vostra maestra! Il criceto regale? Oh oh! È divertente! Il cortile è diventato una gabbia per criceti! Già, molto divertente! E perché mai questo criceto deve correre così tanto? Ai criceti piace correre su e giù! Ciao, Ben! Ciao, ciao, Gastone! Ciao, Alì! Oh no! Pippin è scappato! Oh! Quanto mi dispiace! Questo è terribile! Che peccato! Pippin! Pippin! Abbiamo perso Pippin! Che notizia tremenda! Che tristezza! Pippin se n'è andato! Se n'è andato per sempre! Aspettate, Riccardo! Io posso far tornare il criceto! Oh, non ti devi preoccupare, Ben! Pippin! Pippin! Grazie a tutti.